La polizia locale di Roma ha denunciato 10 persone ed effettuato sequestri tra cui un terreno, un impianto di recupero di materiali metallici e scarti pericolosi. Una donna è stata sorpresa dagli agenti mentre guidava un furgone carico di materiali di ogni tipo, tra i quali anche 8 bombole di gas che sarebbero potute esplodere. I caschi bianchi del gruppo Torri hanno invece individuato una discarica abusiva in zona Ponte di Nona, dove sono stati rinvenuti circa 300 metri quadri di rifiuti speciali depositati su terreno privato, per lo più mobili e materiali di risulta, riconducibili a lavori da modernamento e ristrutturazione di un immobile, oltre alla denuncia, al loro carico, anche le spese per la bonifica dell'area. Alcuni giorni fa, un terreno di circa 6.000 metri quadri era stato sequestrato a Roccacencia, utilizzato da titolari di imprese operanti nel settore dell'import-export, per il deposito incontrollato di ingenti partite di rifiuti, come batterie ed autoesauste, veicoli fuori uso, condizionatori, frigoriferi e materiali informatici. Nella sua attività di contrasto agli illeciti ambientali, la Polizia Locale di Roma Capitale, lo scorso anno, ha accertato circa 3.600 violazioni tra illeciti amministrativi e penali per quasi 4.000 controlli.